Sono Lorenzo Marone, un saluto fortissimo a tutti i miei lettori rumeni, al mio editorio Humanitas e spero che questo romanzo, tutto sarà perfetto, possa piacervi quanto i miei precedenti. È un romanzo al quale sono ovviamente molto legato perché rappresenta un po' il primo, la prima storia che mi vede lontano da Napoli, la prima storia che un po' si allontana dalle precedenti, nel senso che è un romanzo che inizia con grande ironia, con un grande quasi comico all'inizio e poi insomma vira. È un romanzo che parla di un'isola che amo tantissimo che procede, è un romanzo nel quale si affronta un rapporto tra un padre e un figlio, si affronta soprattutto la problematica degli adulti di oggi, dei nuovi nuovi adulti, quarantenne, cinquantenne, che ci troviamo a un certo punto nella nostra vita a dover fare un salto, a compiere un salto, cioè diventare genitori dei nostri genitori, in una delle fasi più delicate della vita di un uomo adulto. È un romanzo al quale tengo molto, che in Italia è stato accolto molto bene e quindi spero che anche in Romagna possa piacere, possa soprattutto affascinare, possa essere anche traino per far sì che voi lettori di Roma possiate un giorno venire non solo a Napoli ma anche a visitare Procida. Mando un saluto a tutti e buona lettura. Ciao! Ciao!